Una ragazza di 16 anni è stata investita questa mattina da un'auto a Petrignano di Assisi. La giovane, quando è avvenuto l'impatto, stava facendo la sua solita passeggiata quotidiana. L'investimento poco dopo le ore 10 e 30 di mercoledì, lungo una strada molto pericolosa, già conosciuta per episodi simili e molto più gravi, la via Indipendenza. Sul posto i carabinieri di Santa Maria degli Angeli, al seguito del tenente colonnello Marco Vetrulli della compagnia comando di Assisi. La ragazza all'arrivo dei soccorsi era cosciente ma è stata portata all'ospedale di Perugia per accertamenti. Non si conoscono le sue condizioni ma l'impatto con l'auto è stato molto violento al punto tale da spaccare il parabrezza della vettura, una Lancia Ypsilon.